Cari telespettatori ben ritrovati a conoscere i funghi, ci troviamo in un bosco montano di conifere davanti a un gruppo veramente numeroso di igroforus camarophyllus. Questo igroforus è piuttosto raro nel nostro territorio e difficilmente è possibile trovarne una raccolta così importante. Ci possiamo quindi ritenere veramente fortunati. Igroforus camarophyllus, conosciuto anche con il nome di igroforus caprinus, è un fungo di taglia medio-grande che può raggiungere, come in questo caso che però è quasi eccezionale, taglie che giungono fino a 10 cm di diametro del cappello. La colorazione è piuttosto scura sul bruno nerastro, su tutta la superficie del cappello, superficie che appare liscia ma osservandola attentamente si vede che è ricca di fibrille disposte radialmente, fibrille nerastre che caratterizzano proprio l'aspetto superficiale del fungo. Il fungo dal giovane è piuttosto irregolare e questa irregolarità del margine si manifesta e si mantiene fino a maturità. Il margine che è inizialmente involuto, cioè piegato verso le lamelle e poi diviene disteso mantenendo un'irregolarità pronunciata in alcuni esemplari. Se noi giriamo il fungo troviamo delle lamelle che sono chiare, biancastre nei giovani esemplari e divengono più grigiastre negli esemplari maturi. Le lamelle sono decorrenti, molto spaziate, questa è una caratteristica del genere igroforus con un aspetto quasi ceraceo e terminano su un gambo che è abbastanza irregolare, corto e tozzo, talvolta affusolato in punta. La carne di questo fungo è una carne bianca, fibrosa, con odore molto debole e fungino, sapore dolciastro ed è un fungo commestibile di discreta qualità. Questo fungo cresce associato alle conifere. Abbiamo conosciuto oggi igroforus camarophyllus, una specie commestibile dei boschi montani di conifera ed è tutto, ci rivediamo con una nuova puntata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.